Ciao a tutti! Questo è il mio primo video di ASRM. Mettetevi le cuffie perché vi voglio portare in un mondo incantato. Siete pronti? Si parte. Mettetevi comodi, straiatevi e chiudete l'occhio. Rilassate i piedi, le gambe, il bacino, le braccia, la testa. Ora immaginate che stiamo entrando in una foresta. Sta piovento. Sta piovento. È una pioggia riversante. Ci piace sentire quello che stiamo sentendo. Vediamo le gocce di acqua che cadono da fiori colorati che si nutrono, che vengono al proprio piso. Esce il sole. Esce il sole. I raggi ci facciano pronti. E vediamo il scogliato sull'ame che ci guardano. Sto bene. Dove sto? State bene. nella natura. Nella natura. Rilassatevi. Rilassatevi. Guardate i ruscelli. Come scordano i cittadini. I fiori. Viola. Rossi. rilassatevi. Siete completamente rilassati. Le gambe. Il ventre. Il petto. Le spalle. La testa. Intorno a voi. Ce la trattatevi. di tranquillità assoluta. Che vi porta in questo mondo incantato. Fatto di tranquillità. Di verde. Di animali. E di acqua. ora pensate alla cosa più bella che vi sia mai successa. Concentratevi su di essa. Come vi vedo felici. come vi vedo sereni. Ora lasciatevi andare e osservate attorno a voi ciò che vedete. Pensate che siete estragliati su un prato d'erba. E tutto intorno. Verde. del ventre. ruce. Sentite il rumore dell'acqua. Scorre dolcemente E tutto questo riporta serenità, rilassando i pensieri positivi. Siamo giunti al termine del nostro viaggio, quindi parte dalle vostre gambe e al rispetto dal vostro bacino, arriva fino al vento, alle spalle, fino a farvi aprire gli occhi. E vi riporta nel vostro mondo e nella vostra casa. Lasciatemi un like se vi piace tutto il video, iscrivetevi al canale e dite se volete ancora Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!